E dopo il calo del 2020 si registra un nuovo slancio nei rapporti economici tra il Piemonte e i paesi della finanza islamica, Turchia in testa. Alle OGR di Torino, tre giorni per favorire il progresso e l'integrazione sociale attraverso l'innovazione finanziaria. Gabriele Russo. Un settore in espansione che allarga sempre più il proprio raggio d'azione da prima moda, alimentazione, viaggi, ora anche intelligenza artificiale, blockchain più in generale, fintech. Col Piemonte che non può stare alla finestra, finanza islamica di nuovo protagonista alle OGR di Torino con il TIEF, Turing Islamic Economic Forum, che torna per la quinta volta per favorire integrazione sociale e innovazione finanziaria. Questa edizione del TIEF è interamente dedicata all'emergenza del territorio e quindi parleremo di intelligenza artificiale, parleremo di sport e parleremo di impatto sociale, che sono temi molto cari anche alla finanza islamica e possono portare delle amplificazioni per le iniziative del territorio. Dopo un 2020 con import ed export in forte calo, nella prima parte di quest'anno i rapporti economici tra il Piemonte e i principali paesi di finanza islamica hanno mostrato un nuovo slancio. Da gennaio a giugno 995 milioni di importazioni e 952 di esportazioni con la Turchia a primeggiare. La finanza islamica, soprattutto declinata in Italia, ha molto a che fare con la creazione di zone di condivisione sociale, economica, finanziaria per quelli che vengono definiti i nuovi italiani. Sul territorio di Torino e del Piemonte abbiamo migliaia di imprenditori, solo a Torino più di 15 mila imprenditori e abbiamo un giro d'affare intorno ai 3 miliardi con questi paesi. Quindi ci sono tante aziende e tante realtà che sono interessate a cogliere le opportunità di una finanza che ha delle caratteristiche un po' particolari. Tre giorni di dibattiti e approfondimenti, due gli obiettivi favorire l'integrazione e attrarre investimenti sul territorio.